Generale Robert Edward Lee, un'icona della storia americana Il generale Robert Edward Lee è una figura di grande rilievo nella storia degli Stati Uniti. Nato il 19 gennaio 1807 a Stratford All Plantation in Virginia, Lee ha lasciato un'impronta indelebile nel corso della guerra civile americana. Esploreremo la sua vita, la sua carriera militare e il suo impatto duraturo. GIOVENTÙ E CARRIERA Lee proveniva da una famiglia di grande prestigio e influenza nella Virginia. Suo padre, Henry Lee, era un eroe della guerra d'indipendenza americana. Nel 1825, Robert entrò nell'Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point, dove iniziò la sua formazione militare. La sua abilità strategica e tattica si rivelò evidente fin dai primi anni. Guerra messicana, West Point e Texas Lee partecipò alla guerra messico-statunitense, dimostrando ancora una volta il suo valore sul campo di battaglia. Successivamente, fu nominato soprintendente dell'Accademia Militare di West Point. Lee proprietario di schiavi Va notato che Lee era anche proprietario di schiavi, un aspetto controverso della sua vita. Questo tema è stato oggetto di dibattito e riflessione negli anni successivi. Guerra di secessione Quando scoppiò la guerra civile americana, Lee si trovò di fronte a una scelta difficile. Pur essendo un ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, decise di unirsi alla causa dei nascenti stati confederati d'America. Fu nominato comandante dell'Armata della Virginia settentrionale, una delle forze confederate più efficienti e combattive. Generale in capo Con grande abilità, Lee guidò l'Armata della Virginia settentrionale per oltre tre anni. Le sue vittorie contro forze nettamente superiori e la sua personalità affascinante gli valsero una fama quasi leggendaria. Negli ultimi mesi della guerra, divenne ufficialmente il comandante in capo dell'esercito sudista. Dopo la guerra Dopo la sconfitta dei confederati, Lee si impegnò per la riconciliazione tra nord e sud trascorse i suoi ultimi anni come presidente del Collegio, Washington and Lee, un istituto che porta ancora oggi il suo nome. Eredità e memoria La figura del generale Lee è stata oggetto di dibattito e controversia nel corso degli anni. Monumenti e memoriali dedicati a lui sono sparsi in tutto il paese. La sua storia è stata raccontata in film e televisione, incluso il celebre generale Lee, la Dodge Charger arancione del 1969 protagonista della serie televisiva Hazard. In conclusione, Robert Edward Lee rimane un personaggio complesso e influente nella storia americana, con un impatto che si estende ben oltre i confini del suo tempo. Il generale Robert Edward Lee aveva opinioni complesse riguardo alla schiavitù e all'unità nazionale. Esploreremo entrambi gli aspetti. Schiavitù, Lee proveniva da una famiglia di proprietari terrieri della Virginia, e quindi era cresciuto in un contesto in cui la schiavitù era una parte accettata della società. Durante la sua carriera militare, Lee fu coinvolto nella gestione delle piantagioni di famiglia, compresse le questioni legate agli schiavi.Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che Lee avesse una visione più moderata rispetto ad altri leader confederati riguardo alla schiavitù. Alcuni storici ritengono che fosse preoccupato per il futuro dell'istituzione schiavista e cercasse una soluzione pacifica, unità nazionale. Lee era un patriota americano e aveva servito nell'esercito degli Stati Uniti prima dello scoppio della guerra civile. Tuttavia, quando la Virginia secessionò dall'Unione nel 1861, Lee scelse di seguire il suo stato natale e si unì ai confederati. Questa decisione fu difficile per lui, perché amava profondamente il suo paese. Durante la guerra, Lee cercò di difendere la sua terra natale e la sua gente, ma mantenne anche un forte senso di onore e dovere verso l'unità nazionale. In sintesi, le opinioni di Lee sulla schiavitù e sull'unità nazionale sono complesse e spesso oggetto di dibattito. La sua eredità è stata influenzata da questi aspetti contrastanti, e la sua figura continua a suscitare discussioni e riflessioni.